Prima ripresa Prima ripresa Prima ripresa Prai nella strada Prai nella strada Via, via, destra via, bravo Spalzando Sempre chiuso Bravo Lascia subito Grazie. 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 il lavoro di caricare, giusto il suo dominale, muovere il tronco, vuoi bruciare adesso, adesso mi devi lavorare, adesso mi devi lavorare, adesso mi devi lavorare, adesso mi devi lavorare, giusto il giro, giro il tronco, vai Carlo, su le mani Carlo, lo faccio scappare, se vuoi scappare, se vuoi scappare, vai Carlo, vena, dai, 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 bravo, 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 bravo terza ed ultima ripresa Grazie non è deciso di fare questo è deciso di mantenere la storia a distanza la storia a distanza e rimuovere la storia a distanza e rimuovere la storia a distanza e si è rientro capo rientro veloce e preciso veloce capo vai è arrivato? lascia dietro alza il giro crozza sto giro bravo subito subito bello posto passati passati pato passati Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.